Luigi Abate, Massimo Battista, Rinaldo Melucci e Walter Musillo, vi ricordate di loro, si candidarono alla carica di sindaco a Taranto alle scorse amministrative. Melucci è diventato primo cittadino, Abate, Battista e Musillo sono in consiglio comunale in opposizione. Ma, indovinate un po', raccattati i voti durante la campagna elettorale, nessuno, a distanza di oltre un anno, pare aver rispettato le promesse fatte alle associazioni di disabili tarantini. Hanno firmato, infatti, un documento di intenti che prevede otto semplici richieste. Rendere accessibili i negozi e le sale dove si svolgono le riunioni delle commissioni consigliari, istituire la figura del garante dei diritti alla persona con disabilità, ricostruire la consulta sulla fragilità, creare un taxi sociale, attrezzare almeno un tratto di spiaggia pubblica, situare cinque parcheggi riservati nei pressi delle spiagge, individuare alberghi accessibili. Oggi erano stati invitati al confronto, in tanti li hanno attesi, nonostante carrozzine, bastoni, ma nessuno di loro si è presentato. Come se questi nostri problemi fossero delle cose opzionali. E poi c'è anche da dire il fatto che firmare un documento di intenti e poi non rispettarlo è una mancanza di rispetto verso delle persone che avrebbero bisogno di un po' di rispetto. Insomma, solo promesse da marinaio o peggio, da campagna elettorale.